buonasera cari video spettatori e bentrovati in questa nuova diretta su twitch un saluto anche a chi sta guardando questo video o meglio guarderà questo video differita su youtube e invito loro come sempre a seguirci anche sul canale twitch perché siamo in diretta tutti i giorni dalle ore 18 alle ore 20 e dalle ore 21 alle 23 30 ragazzi quindi non avete assolutamente scusanti per non essere per non essere qui oggi continuiamo the long dark sperando sperando di non dover solo ed esclusivamente cucinare e scappare e morire di freddo e palla l'ultimo giorno che fa tra l'altro abbiamo ecco anche la salute già moribonda ciao nagan ciao tris come state questa è questa è nagan si è ancora le catacombe naga ogni tanto ti fanno prendere aria dura di aria ad anno almeno ma non ho capito se dopo a proposito quando siamo ecco ci attivare io devo andare a trovare legna c'è siamo sempre così qua non riesco a fare nulla ecco i lupi siete i lupi no ma perché c'è la pentola appresso adesso ci metto 45 minuti giusto 31 rischio di distorsione tutto bene tris tutto bene ma mangiato una bella piadina con formaggio e 18 minuti e hamburger li va più che bene ok servirebbe un altro pezzo di legna così e siamo a posto le catacombe tutto bene ancora non ti sei licenziato e sei andato anche tu a diventare un allenatore di pokemon e non lo so e te lo sto consigliando ormai da quattro anni di farlo saresti diventato il rosso della situazione il campione del della lega pokemon saresti diventato come rischio congelamento ma ma si si devo lasciare qualcosa cazzo dai che ce la facciamo dai che ce la facciamo nagan questo è l'episodio quattro i primi tre episodi che abbiamo fatto in passato più o meno erano fighi questo mi sto un po rompendo le palle i miei fighi sono saresti stato a quest'ora che avessi seguito i miei consigli ok prendiamo questa cosa vediamo che possiamo usare se l'accetto la posiamo questo ce li prendiamo vabbè facciamo così fucile lo posiamo questo vabbè facciamo così fucile lo posiamo questo lo lasciamo qua sennò qua non ce ne andiamo più che valla lascia 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 lo usiamo asciutto au uff uff Sfresci tutto Il resto ce lo dobbiamo tenere No, se è bende Ok Ci serve Il cipacco l'abbiamo pieno praticamente Dobbiamo dormire Però prima di dormire Fatemi vedere un attimo se sto messo bene Con i vestiti 60 Forse ce lo ripariamo E poi c'è un'altra cosa che devo riparare A parte questa che devo Indossarli Raccogli Eccolo azioni Ripara Ma il fuoco già si è spento Sì Baby Mangia Ok Dormiamo Fa niente che moriamo di freddo Morbi Non ci do a far sì Dobbiamo rifare tutto come abbiamo fatto prima Esattamente come abbiamo fatto prima Solo che stiamo morendo di freddo Non c'è niente che lo accendono Non c'è niente che lo accendono Non c'è niente che lo accendono Posso fare giusto un'altra, quindi dueci, facciamo pure quest'altra, 12 minuti, 11 minuti, bevi, bevi, cuoci, quindi l'antisettico sono le bacche, non l'ho capito bene però mi danno proprietà, non ho letto, cioè non mi ricordo già più, proprietà, le bacche mi danno proprietà curative. Possiamo sempre scrivere insulti, vediamo che faccio, è quella che faccio sempre. Speriamo solo di non beccare i lupi anche se è dufido, cioè risento che si lamentano. Speriamo di notte. Dai, come prima c'è solo il lupo là sopra, solo il lupo perfetto. Però sta corda dove ci porta? Cioè, in questo lato dove stiamo? Ah, qua sopra andiamo, tipo. Ok, inventario. Venga, la usa. Hai visto, vimpi, hai detto la parola insulti e non ti piace. La caverna c'era qualcosa, c'era solo il lupo morto, vero? C'era solo una caverna intorno. Oh, quel lupo morto. Ok. 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 dai dai che ce la facciamo dai che ce la facciamo si con il bengala si vede certo che si vede il bengala fatto appositamente per per the long dark senza the long dark il bengala non resiste vediamo se riusciamo a farlo scappare no 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 andiamo a rinare ho avuto paura il lupo sappiamo è fatta appositamente per pimpi vabbè quello pure quello pure potrebbe essere tranquillamente solo che mi da fastidio troppo questo umore che fa proprio fastidioso ormai siamo arrivati proprio fastidioso fastidioso a me mi stava proprio stonando ma proprio proprio esageratamente ok ora prendiamo un ecco ora è uscito non ci aveva fatto caso io nascondi i tuoi oggetti per evitare che te li confiscano quindi apriamo qua e ci butto tutto qua dentro si esce tutto mi interessa si esce tutto guarda che si riempie sto cosa ah quello l'hanno messo a posto apposta questo qua proprio per metterci la roba dei con i vestiti tutto mi tolgo ragazzi mi concedo mi sa non c'è niente addosso vero nudo nudo via bene merda ce l'hai fatta ce l'ho fatta sei piuttosto di quanto sembri ho trovato della roba per aiutare il direttore parte medica si entra e dagli un occhiato non sembra in gran forma ma prima devo perclusirlo no e ora si prende di fuggire se fa entrare un coltello metis mi spacca la pelle mi stacca la pelle e no mo si prende il fucile si prende tutto no un lupo mi ha ucciso capitolo 2 la centrale elettrica si mi hanno mozzicato più volte si rilassati sono il tuo vicino di cella 15 ah si il pilota di metri ti ho sistemato meglio che poteva potresti avere una costa la rotta forse di più metis ti ha aperto un paio di brutte ferite ne ho riuscito ti ho dato degli antibiotici spero che prevengano qualche concezione seria grazie sembra che tu sappia molto di primo soccorso beh sono conosco un dottore e mi faccio male spesso non è vero questo non è vero se hai amici come metis non mi stupisce oh metis non è mio amico facciamo presto prima che tornino alle guardie devo dirti una cosa sulla prigione sono tutto orecchio il braccio di isolamento ha un proprio sistema di chiusura separato dal resto della prigione metis e i suoi uomini non l'hanno ancora capito ma quando lo faranno quando lo faranno libereranno Donner e saranno guai danno la colpa a te metis vedete che in qualche modo io abbia già il sistema per tenere chi su Donner anche questo anche quando il resto della prigione è da denti ed è così no non riesco a capire ma c'è qualcuno che interferisce con il sistema quello che ci ha chiamato sicuro che interferisce con Metis e tiene il chiuso Donner Donner forse so di chi si tratta hai visto qualcuno là fuori? no non l'ho visto come ho parlato con qualcuno al telefono giusto il vecchio sistema telefonico dovrebbe funzionare ancora è ausiliario nel caso il sistema satellitare salta giusto merda sono tornando rientra nella tua cellula starei bene? non farti trovare qui se dovessi parlare ancora con la persona telefono fai tutto quello che ti chiede perché ora come ora è l'unico motivo per cui siamo vivi credi che possiamo fidarci? il nemico del mio nemico è il mio amico ehi com'è successo? come è successo? wow wow si devono esserci dei problemi questi idioti mi credono fesso pensano che non riesco a capire cosa è successo che erano troppo cotardi per occuparsi del direttore di persone e hanno mandato te là fuori al gelo a fare il lavoro fuori e tu hai rischiato la vita per salvare qualcuno che nemmeno conosci boy scout del cazzo sono fatto così continuo a non capire non capisci che in questo modo McKenzie i boy scout saranno i primi a morire? eppure sono ancora qui beh stronzetto se proprio vuoi dare una mano vorrà dire che darei una mano a me ah si? oh si e perché lo farò? beh perché la valigetta giusto torna là fuori pilota vai a scoprire cosa non va in questo posto cosa hai in mente? beh evidentemente c'è un problema con il raccordato anche se lui non è stato d'aiuto la mappa dell'ufficio del direttore mostra questo posto ho un affidio di legge quindi vai un po' a vedere fammi avere la corrente per aprire i cancelli del bar giusto corrente isolamento capito e McKenzie non perdere tempo questa volta il direttore pagherà davvero le conseguenze bene bene Mathis ha detto dirarti questo non sembra un cappotto perché non lo è è un pezzo di mappa indica la strada per la diga a quanto pare basta seguire la linea elettrica credo si gela qui fuori non troverò la diga se mi congelerò prima di arrivare ti sembra che me ne freghi qualcosa? non vuoi congelare? allora datti una mossa ma come? tutta quella roba c'è una mossa ma è meglio quindi posarla da qualche parte ma vaffanculo tutto praticamente ci è andato meglio di te mi raccendo non abbiamo perso niente allora ragazzi chiudiamo una diretta qua allora salviamo storia 4 sovrascrivi non fremo vabbè tanto domani già sappiamo domani non facciamo The Long Dark ragazzi domani c'è Empire quindi faremo Watch Dogs 2 il pomeriggio e e poi Empire noi il passamontagna l'abbiamo trato più avanti quindi lo troveremo domani dobbiamo seguire ora la stazione no la stazione centrale elettrica ragazzi per chi sta guardando questo video su YouTube vi invito come sempre a seguirci sul canale Twitch perché siamo in diretta tutti i giorni dalle ore 18 alle ore 20 e dalle ore 21 alle ore 23 e 30 quindi ripeto non avete scuse per non venire venite a seguirci su Twitch venite a cazzeggiare con noi in chat tanto siamo qui ci divertiamo insieme e andiamo a giocare a questi splendidi giochi per quanto riguarda The Long Dark ragazzi vi ripeto domani no dopo domani dopo domani comunque continuiamo The Long Dark domani invece dalle 18 Watch Dogs 2 e poi a seguire alle 21 Empire ok vi ringrazio per avermi fatto compagnia anche questa sera e vi auguro la buonanotte a domani ragazzi grazie a tutti i giorni